Ci sono dei bimbi che vogliono salire? Venite su, però con la mamma, sennò si spaventano. Come ti chiami te? Matilda? Prendeteli per mano, che già mi hanno denunciato per sequestro di minore. Quanti figli hai? Sei. Un applauso, sei figli. Tieni in piedi l'economia del paese. Dov'è il marito? Dov'è quel matto del marito? Vieni qua, voglio vederti in faccia, te che hai fatto sei figli. E' questa l'Italia per cui stiamo lavorando, che i figli nascano a quantù e non ci arrivino sui barconi dall'altra parte del mondo già belli e confessionati. C'è una certa sinistra che sostiene che siccome c'è crisi demografica in Italia c'è bisogno di immigrazione per fare certi lavori, per i campi, per le fabbriche. Io sono al governo per aiutare gli italiani a tornare a fare figli perché accogliere chi scappa dalla guerra è giusto ma le sostituzioni di popoli con popoli non mi piacciono.